Università d'Annunzio di Chieti Pescara, struttura della Regione Abruzzo e centro di documentazione dei conflitti ambientali hanno dato vita a un primo stralcio del piano di adattamento ai cambiamenti climatici frutto di un intenso lavoro di collaborazione e di messa in condivisione dei dati e delle elaborazioni. Lo studio è stato elaborato sulla base di specifiche linee guida e finalizzato a valutare l'evoluzione del clima nella Regione Abruzzo negli ultimi 60 anni e fornisce un quadro rappresentativo delle diverse aree regionali permettendo di delinearne i mutamenti. 305 sindaci d'Abruzzo sottoscrissero il patto per l'Abruzzo, il patto dei sindaci che sul tema dell'energia e dell'uso dei rinnovabili avevano sposato questa causa ottenendo anche un riscontro tangibile nel finanziamento di alcuni interventi sul proprio territorio. dall'ottobre del 2015 c'è stata questa evoluzione, il patto si chiama non più per l'energia ma per il clima e l'energia e quindi anche in Europa da allora è entrata a pieno titolo questa tematica e quindi questo contratto fra gli enti locali con lo Stato e con l'Europa va risottoscritto. I dati raccolti mostrano che su tutto il territorio regionale vi è un evidente riscaldamento dell'atmosfera con un'intensificazione a partire dal 1990. L'intensità, le variazioni stagionali e quelle zonali danno un quadro dettagliato dell'evoluzione climatica regionale degli ultimi 60 anni e permettono la realizzazione di un pack puntuale che tenga conto delle peculiarità locali. La fotografia del cambiamento e la scomparsa in pratica dei ghiacciai o quasi nella nostra regione? Esatto, esatto. Quello è un termometro fondamentale. Il calderone, come sapete, è il ghiacciaio più a sud dell'Europa ed è una riserva fondamentale, come tutti i ghiacciai, per quanto riguarda il potere idrico della regione sia dal punto di vista energetico ma anche dal punto di vista della vita di tutti i giorni e quindi quello è uno degli elementi fondamentali. Ma io non trascurerei nemmeno l'agricoltura perché ci sono effetti notevoli per quanto riguarda il fatto che alcune culture devono spostarsi a quote sempre più in alto, cominciamo a vedere i vigneti sempre a quote più in alto problemi con l'ulivo, come sapete tutti, anche dovute a specie infestanti che prima non c'erano quindi le conseguenze sono notevoli.